25 nei primi sei mesi del 2019 e 45 nei due anni precedenti. Non si arresta il trend delle donne vittime di violenza, di abusi, di intimidazioni che si rivolgono all'Associazione Donatella Tenilini, Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila. Una lunga scia di violenze che resta spesso in silenzio. Donne che solo dopo anni di sofferenze trovano il coraggio di denunciare. Serve una casa rifugio fondamentale per dare protezione e respiro a persone che rischiano di restare non solo in balia dei loro aguzzini e potenziali carnefici ma anche abbandonati dalle istituzioni. A richiamare il Comune dell'Aquila alla sua responsabilità e al dovere di aprire nel più breve tempo possibile una casa rifugio è la Presidente del Centro Antiviolenza, Simona Giannangeli, l'avvocata delle donne. Anche lei vittima di intimidazioni e di minacce di morte per la sua attività e per il suo impegno decennale in difesa delle donne. Noi nel 2019, che è ancora in corso, abbiamo accolto finora 25 donne. Chiaramente questo numero è destinato a crescere fino alla fine dell'anno e sarà un dato che confermerà il 2018 e il 2017 i anni nei quali abbiamo rispettivamente accolto circa 45 donne. Chiaramente questo è un dato più o meno costante e molto significativo che ci dice il livello di incidenza della violenza maschile sulle donne su questo territorio. La casa rifugio all'Aquila non è mai esistita, la chiediamo da dieci anni e adesso da circa un anno e mezzo abbiamo richiesto con forza al Comune dell'Aquila quantomeno una casa rifugio in emergenza, da individuarsi eventualmente in un progetto case, a indirizzo segreto. È in un anno e mezzo di incontri, confronti sia con il Sindaco, sia con l'assessore Bignotti, impegni presi, carte scritte, determinazioni assunte, non ultimo proprio il 24 giugno 2019 a mia firma delle PEC, immiate anche ai dirigenti Giannangeli ed Amorosi, il Centro Antiviolenza per l'Aquila non ha ottenuto nessuna risposta. Questo rappresenta veramente una vergogna perché un capoluogo di regione con un centro antiviolenza ormai autorevole che opera da oltre 11 anni non può permettersi di rimanere sprovvisto di una struttura di questo tipo.